L'età è la nostra azione del ruolo della Marina nella Grande Guerra e tengo a far presente, e insomma focalizzare i ragazzi, ma tutti in generale, come avete visto nelle slide, è ricorrente il concetto di potere marittimo. Ecco, mi piace ricordare una miranda che è dettagliato con l'impegno della Marina nelle varie forme di lotta, quindi sotto la superficie, per terra e in cielo, come la Marina abbia contribuito al collasso economico, con un potere marittimo, diciamo, solido, queste citazioni, il potere marittimo solido, abbia contribuito al collasso dell'impegno asburgico, e quindi poi alla vittoria della prima guerra mondiale. Bene, prima ho detto che avremmo preso la parola successivamente l'architetto scopo, in realtà, in virtù delle modifiche che io vi dicevo, per la parola di voi, come ho preso la retta, cedo subito la parola al professor Arcato per la sua presentazione. Allora, la parola. A me spede il compito di sviluppare una piccola riflessione rapida, per quanto possibile, attorno al tema centrale, che è quello della grande guerra, dentro cui si colloca poi il discorso specifico, in cui abbiamo già sentito un'attenta anticipazione. Dalla 2014, 2014, ad oggi noi abbiamo sviluppato in tutta Italia una serie di incontri, di iniziative per il centenario della grande guerra. Una gran parte di questi incontri, ovviamente con le scuole, che se volete, che se volete è un discorso che ha un certo senso, naturalmente, ma che non deve portare ad illudersi su un fatto. Cioè, noi diciamo, dobbiamo parlare giovani, dobbiamo parlare giovani. Io ho detto spesso una altra cosa. Io ho detto spesso che in realtà, a distanza di cento anni dalla grande guerra, quello di cui sento la necessità è di parlare ai grandi. Di parlare ai grandi che, quando dico grandi mi riferisco ovviamente a coloro che sono, hanno l'età, che sono mattutiche, che sono un poco vicious, no? Non possiamo dire noi qui a Cagliari, i quali hanno delle responsabilità politiche. Perché? Perché? È vero che dobbiamo spiegare, raccontare, dire, eccetera, al giorno di che cos'è la grande guerra. Ma l'impressione che ogni tanto se ne ricava è che la lezione della grande guerra non sia poi stata tanto ben appresa da coloro che giovani non sono più, che sono grandi e che hanno, pur cos, delle responsabilità politiche, delle responsabilità di direzione, delle responsabilità nella società e nella comunità. perché il dato fondamentale che emerge a cento anni dalla grande guerra è che non è successo quello che si pensava che sarebbe potuto succedere. Non è successo cioè che cento anni sono morti e la grande guerra è decantata, passata lì, Sfruttavamo se è passato, è passata lì, no? Perché? Quello che ha determinato la grande guerra sta continuando ad agire, ad operare, ad incidere fortemente sull'oggi e guardando con intelligenza, guardando con attenzione alla grande guerra scorgiamo lì la genesi di alcuni processi e se riusciamo a vederli bene, forse riusciamo a capire quali sono i percorsi da seguire oggi per disognarli e cosa voglio dire? Voglio dire intanto una cosa abbiamo cominciato a dire come il 2014 la guerra, c'è un paio della guerra ricordiamoci la guerra perché non ci siano più guerre e ci mancherebbe altro il problema che noi abbiamo non è quello di sviluppare una rete di buone intenzioni non abbiamo quello di affrontare questo tema all'interno dei buoni sentimenti che essendo buoni sono buoni e via, li accogliamo come evidente il problema non è di trasformare una riflessione su un effetto storico della portata della grande guerra in un momento di predica in un momento in cui diciamo come bella la pace partiamoci per la pace e via che dicendo certo sono temi sono temi correttite anche banali un filosofo che si chiama Nortelli che a 7 diceva evitiamo di essere governati dalla banalità dei buoni comuni ovvio noi abbiamo la necessità di sviluppare attorno a questo evento che non è decantato e che ancora oggi pesa e pesa fortemente abbiamo la necessità di sviluppare un'analisi intellettuale non buone intenzioni ma lucide attente documentate analisi analisi cioè scomposizione perché ho studiato il diretto analico scomporre scomporre vedere vedere negli elementi singoli degli elementi come si compongono e questo è quello che dobbiamo fare noi non abbiamo necessità tanto di memoria che è importante e su cui non voglio riflettere adesso abbiamo necessità di storia cioè abbiamo necessità di guardare con anche di via con senso politico con rigore filologico guardare le cose e dire ecco questo e questo sapere questo capire questo può essere utile se siamo intelligenti naturalmente può essere interiorici può essere utile intanto un elemento ricordate qui siamo siamo siete siamo un vecchio c'è più vecchio che dopo a terra e Giovanni iniziamo a vedere una differenza e capire che cosa significa questa differenza nel 1912 è trascorso un po' di tempo e in Francia ma badate la cosa non succede solo in Francia ma nella Francia abbiamo documentazione precisa in Francia viene condotta una ricerca un sondaggio diciamo vengono vengono intervistati migliaia di giovani studenti 1912 la c'è un certo giudì qualcosa dice vengono intervistati migliaia di giovani che cosa dicono questi giovani cioè quelli che hanno l'età tua l'età tua gli ragazzi 15-16 anni che cosa dicono dicono che hanno una speranza una speranza ecco le differenze e le somiglianze ma che cosa c'è questi ragazzi giovani oggi possiamo dire giovani non usciano che cosa sperano sperano che è una bella sperano sperano che è una bella sperano cioè sperano cioè che un fatto che viene evidentemente visto in modo molto mitico e molto è all'interno di un'esaltazione un fatto così drammatico così coinvolgente così radicale come era possa cambiare il mondo che appare grigio falso popita corrotto inaccettabile viva la guerra 1912 sono giovani sono studenti e sono convinti fortemente convinti che solo da una guerra si può cambiare un mondo e soprattutto una politica che appare in un mondo inaccettabile che deve essere cancellata e per la quale siamo pronti a sacrificarsi dicono e certo questa questa loro ospirazione alcuni anni dopo avrebbe portato un ignoto un anonimo a comporre quella canzone che i giovani non conoscono non la penso che conosciamo gli studenti no gli studenti ma il mito dell'antipolitica il mito del rifiuto della politica l'incapacità cioè di combattere su un terreno specifico proprio della politica quello che appare inaccettabile significa la diffusione l'esaltazione del mito della guerra questo è un elemento importante questo è un elemento che fa capito questo è un elemento che fa capito anche attraverso i momenti in cui si è sviluppato perché se è vero che quel pensoso giovane con gli occhiali è vero di ascoltare sicuramente non è affetto da questo mito è vero però è vero però che anche in Europa oggi questo mito lentamente si sta facendo concretamente non voglio fare esempio perché il lavoro di cercarvi questi esempi è molto utile per pensare e per lavorare attorno a qualcosa che non sia un banale discorso di buoni sentimenti e di buone intenzioni questo nel 1902 diciamo un aspetto un aspetto significativo e un aspetto importante che costituisce uno degli elementi della non morta modernità della Grande Guerra perché la Grande Guerra è proprio a tutti gli effetti quell'effetto che ha aperto la strada alla modernità che ha aperto la strada al novecento veramente ed è quell'effetto il quale oggi le conseguenze sono oggi operanti ampiamente operanti sono molti sono numerose il più importante riguarda il tema del rapporto tra classi indigenti e indiretti tra chi governa il governante e il governato tra il sofrano di allora il subito di allora e oggi e oggi in modo nuovo non parliamo ovviamente non parliamo di accesso delle masse parliamo di cittadini però ci rinterroghiamo su come questo rapporto governanti governanti cambiato mutato profondamente nelle trincee della Sonia nelle trincee del Casso nelle trincee della Galizia è diventato modo nuovo di vivere la politica e si sta trasformando si sta modificando anche questo è un tema il tema di riflessione è un tema molto significativo al mio avviso questa guerra che non decanta questa guerra che mantiene e che ha insegnato non che prima non non ci fossero cose di questo genere ma che ha insegnato a livello di massa la violenza la brutalità ti ha insegnato soprattutto l'avitudine e l'insensibilità questa guerra comincia nel 14 quando finisce non è il 14 faccio il 14 poi la finisce l'11 novella alle ore 11 dell'11 novella non manco nessuno non manco nessuno la guerra è quella che forse comincia anche un po' del 14 perché perché che so io qualche storico italiano ci sta ammonendo sul fatto che forse la grande guerra è cominciata nel 1911 qualche altro storico ci sta dicendo che forse la grande guerra è cominciata con le guerre barcaniche con le due guerre barcaniche siamo nel 12 nel 13 allora ammettiamo pure che sia cominciata in quella sella dell'agosto del 1911 quando non gredisce si spengono le luci su Europa e non sarà dato alla mia generazione di fedeli di ascendere queste luci diamo pure per spuntarlo che sia questo però guardate è quella non termina non termina nel 18 è uscito in questi giorni un bel libro di Gerhard sulla guerra dei figli un libro molto bello perché la grande guerra prosegue prosegue come combattimento intanto e prosegue a lungo e prosegue a lungo in tutto il mondo in Europa e prosegue sotto forma di guerra civile per esempio della Russia ma non so tra Grecia e e trucchire per proseguire i combattimenti proseguono qualcuno dirà una tregua di vent'anni e una di una tregua di vent'anni lo dice lo dice dei miei figli la guerra esplode di nuovo il primo settembre del 1929 e in realtà tutta la storiografia contemporanea oggi ci ricorda che forse nella grande guerra quello che ha avviato quello che ha messo in moto o sarebbe di vera termina o possiamo dire che ci siamo ilusi che sia terminata tra l'89 e il 91 perché? perché tutto quel rimescolio profondissimo dell'Europa prima del mondo dopo non si ferma non si ferma con il trattato del 19 va avanti va avanti i totalitarismi dell'Europa il fascismo il nazismo il comunismo questi questo role che ha genato confuso illuso un grande storico parla del passato di illusione non so più le e vanno avanti vanno avanti 89 e 91 appunto e ecco che improvvisamente ci accorgiamo in questi in questi ultimissimi anni che tutta una serie di fuochi che pensavano spenti non sono spenti il Mike Smenti che è il più grande storico della prima guerra mondiale in Italia ha scritto infatti il fiamma di torno fiamma di torno grazie perché quelle fiamme accese accese nel 14 e nel 15 se non non ritornare e qui c'è il problema la difficoltà la questione di fondo noi fortunatamente dico noi apparteniamo a generazioni che non hanno conosciuto direttamente cosa si ha una guerra qui in questa sala immagino so che ci sono alcune persone che hanno vissuto esperienze di guerra magari chiamando le loro nomi diversi una guerra sola posso essere un'esempio di pace una guerra sola scusa interrompo ancora qualche minuto facciamo una breve pausa finisco subito perché sto seguendo i due altri che si stanno per adormentare che sono lì quindi siamo allora dicevo dicevo che passo fino un secondo dicevo che il problema fondamentale appunto per queste generazioni è riuscire riuscire allora a capire di che cosa stiamo parlando molto da ricercare molto da vedere uno sforzo per capire ecco qui vorrei chiudere con qualcosa che esprima la difficoltà di capire perché capire non è facile e come al solito ci aiutano i poeti quando ci troviamo in fronte a questi problemi in questo caso è un poeta inglese si chiama Hobson lo cito spesso perché ha pensato molto sulla mia formazione e si tratta di un ragazzo è stato di un ragazzo interdente che avendo studiato latino greco di interna college e viene chiamato a fare un ufficiale e viene chiamato va volontario perché sono volontari in Inghilterra fino a 16 va volontario e viene scelto come ufficiale che ha ragione dei suoi studi e fa un ufficiale l'osservatore tutti i giorni da una colina guarda guarda quando i suoi subitoli escono dalla pencere arrivano all'attacco l'anno amassato l'ultimo di giugno del 1916 gli arriva l'ordine per il giorno dopo di andare in luglio all'assalto e la famosa battaglia della Somma del luglio del 1916 e scrive una poesia in cui chiede alcune cose al signore chiede sostanzialmente di diventare uomo e di diventare studiato e gli chiede di essere aiutato a morire e scrive un verso che ci deve fare fredda su questo politico mi dice io ho visto tutti i giorni con occhi che non capivano con occhi che non capivano ho visto i miei amici che come dito di andare a morire però non capivo li vedevo li vedevo morire ma non capivo domani devo andare io e adesso capisco che cosa significa andare all'assalto William Noel Robinson muore il giorno dopo della battaglia dell'assalto a noi rimane a noi rimane come dire un compito perché nessuno di noi si può augurare di capire fino in fondo perché significherebbe vivere quell'esperienza a noi resta però un compito ed è un compito per la nuova generazione è un compito anche per gli specie di studiare studiare riflettere cercare di conoscere e vedere che i tempi della storia i tempi della politica i tempi della vita sono tempi molto lunghi e noi oggi in regioni della Russia in regioni del Medio Oriente in regioni dell'Asia continuiamo a scontare e ad affrontare i problemi che ci hanno lasciato 200 anni fa con le altre guerre grazie a scontare Grazie a tutti